Marco Falaguassa interpreta Pietro, il cattivo tra virgolette della serie. Sì, un cattivo per modo di dire o quantomeno si presenta come tale, poi di fatto è un personaggio che ha tanti aspetti, che ha tante sfaccettature e credo che sia uno di quei personaggi che gli attori aspettano di interpretare nel corso della propria esperienza professionale. A me è capitata la fortuna di interpretarlo relativamente presto, quindi di cimentarmi con un personaggio così complesso, questo sicuramente mi ha dato molto, mi ha molto arricchito e mi ha fatto capire la differenza profonda che esiste tra il cattivo, diciamo così, che siamo un po' abituati a vedere nelle storie che non sono così innovative come questa, cioè il cattivo che si odia appunto e basta perché è cattivo e perché va contro l'eroe della storia. Questo è un cattivo che se abbiamo indovinato tutto si amerà anche. E dopo tanti ruoli, alcuni ruoli comici, come ti sei trovato ecco in questo tipo di ruolo differente? Ma guarda, molto bene, anche perché sai, purtroppo in Italia sembra che far ridere sia un po' una colpa, no? E che quindi l'attore che inizia con dei ruoli comici sembra sempre un attore di lignaggio inferiore, invece io ritengo che far ridere significhi toccare in maniera diretta delle corde emotive, che sono quelle del divertimento e che sono quelle che destano ilarità, ma chi è abituato a toccare le corde emotive sa toccare anche quelle che destano suggestione, tensione e perché no, anche tristezza. Quindi il meccanismo è lo stesso, basta invertirlo e quindi io ho avuto la fortuna di muovermi in una latitudine e adesso in quest'altra e non lo so, poi magari mi muoverò in qualche cosa di spirituale, farò un beato, non lo so. Allora in bocca al lupo e speriamo che nella prossima intervista sarai un beato, un prete. Ma non lo so, speriamo, intanto grepi il lupo e poi speriamo che ci sia una prossima intervista perché questo significa che ho fatto un'altra cosa, adesso inizierò una commedia quindi insomma sono molto contento. Grazie a tutti!